Abbiamo presentato questa lista con l'obiettivo di portare all'interno della coalizione di centrodestra che sostiene Lucia Borgonzoni alla presidenza della regione Emilia Romagna i temi che ci stanno più a cuore insieme a tante altre componenti racchiuse nella dicitura insieme per l'Emilia Romagna e gli amici di Cambiamo di Giovanni Totti. La famiglia, la vita, la persona, la tutela dell'impresa familiare, il rilancio del ruolo sociale pubblico della famiglia e dell'impresa familiare sono i temi fondamentali che noi portiamo avanti. Crediamo che su questi temi la nostra presenza qualifichi la coalizione e per questo abbiamo voluto sostenere Lucia Borgonzoni proprio per far sì che nell'agenda dei prossimi 5 anni di governo si possa fare una rivoluzione a formato famiglia sia nel settore economico che nel settore sociale. Il pacchetto famiglia è il cuore della nostra proposta, l'abbiamo firmato io e Lucia Borgonzoni a Castel Bolognese la scorsa settimana. È un documento che rappresenta gli impegni che nei prossimi 5 anni del governo di regione Emilia Romagna e porteremo avanti per riportare al centro il ruolo sociale ed economico della famiglia e dell'impresa familiare. Riapertura dei punti nascita nelle zone dove sono state chiuse, è sorprendente che Bonaccini li abbia chiuse, venerdì, cioè domani li andrà a riaprire contraddicendosi in prima persona. Indennità di maternità per le donne che vogliono fare la mamma, conciliazione lavoro e famiglia, riconoscimento di agevolazioni fiscali per il part-time, nidi aziendali, assegno unico familiare, dimezzamento dell'IRPEF o riduzione totale se ci arriveremo, azzeramento dell'IRAP per le imprese familiari, sostegno all'assunzione dei giovani talentuosi del nostro territorio attraverso agevolazioni fiscali riconosciute alle aziende che li assumono, la questione dei voucher scolastici per una piena libertà e parità scolastica e azioni tese a ripopolare il nostro appennino che è una delle parti più preziose del nostro territorio. Se volete il cambiamento e che il cambiamento possa passare dalla famiglia e che venga nuovamente riconosciuta nel suo ruolo sociale ed economico, quale rispetta e quale merita, votate la nostra lista, la lista del popolo e della famiglia Cambiamo insieme per l'Emilia Romagna, dando forza a questi temi all'interno della futura giunta guidata da Lucia Borgonzoni.